Nel caso abbiate dei problemi con l'acqua che vi sale sopra il primo livello di canna da zucchero, in questo piccolo video vi faccio vedere come risolverlo. Come notate, senza la canna da zucchero l'acqua occuperà tutto. Con la canna da zucchero piantata invece, come potrete notare, nella parte sinistra dove è presente questo muro l'acqua non passa, nella parte destra dove non è presente l'acqua passa e scende. Quindi costruite subito questo muro da entrambi le parti. E risolverete il vostro problema.